le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 10 angiafuoco starnutisce e perdona pinocchio il quale poi difende dalla morte il suo amico arlecchino il burattinaio mangiafuoco che questo era il suo nome pareva un uomo spaventoso non dico di no specie con quella sua barbaccia nera che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe ma nel fondo poi non era un cattivuomo prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero pinocchio che si dibatteva per ogni verso urlando non voglio morire non voglio morire principiò subito a commuoversi a impietosirsi e dopo aver resistito un bel pezzo alla fine non ne pote più e lasciò andare un sonorissimo starnuto a quello starnuto arlecchino che fin allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente si fece tutto allegro in viso e chinatosi verso pinocchio gli bisbigliò sottovoce buone nuove fratello il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mosso a compassione per te ormai sei salvo perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini quando si sentono impietositi per qualcuno o piangono perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi mangia fuoco invece ogni volta che si inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire era un modo come un altro per dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore dopo aver starnutito il burattinaio seguitando a fare il burbero gridò a pinocchio finiscila di piangere i tuoi lamenti mi hanno messo un'ugelina in fondo allo stomaco sento uno spasimo che quasi quasi e fece altri due starnuti felicità disse pinocchio grazie il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi domandò mangia fuoco il babbo si la mamma non l'ho mai conosciuta chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei arboni ardenti povero vecchio lo compatisco ci e ci e ci e fece altri tre starnuti felicità disse pinocchio grazie il resto bisogna compatire anche me perché come vedi non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto e tu dico la verità in questo caso mi avresti fatto un gran comodo ma ormai mi sono impietosito e ci vuol pazienza invece di te metterò a bruciare sotto lo spiede qualche burattino della mia compagnia olà gendarmi a questo comando comparvero subito due gendarmi di legno lunghi secchi secchi col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa pegliatemi lì quell'arlecchino legatelo ben bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco io voglio che il mio montone sia arrostito bene stasera figuratevi il povero arlecchino fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra pinocchio alla vista di quello spettacolo straziante andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba cominciò a dire con voce supplichevole pietà signor mangia fuoco qui non ci sono signori replicò duramente il burattinaio pietà signor cavaliere qui non ci sono cavalieri pietà signor commendatore qui non ci sono commendatori pietà eccellenza a sentirsi chiamare eccellenza il burattinaio fece subito il bocchino tondo e diventato tutta un tratto più umano e più trattabile disse a pinocchio ebbene che cosa vuoi da me vi domando grazia per il povero arlecchino qui non c'è grazia che tenga se ho risparmiato te bisogna che faccia mettere sul fuoco lui perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene in questo caso gridò fieramente pinocchio rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane in questo caso conosco qual è il mio dovere avanti signori giandarmi legatemi e gettatemi la fra quelle fiamme no non è giusta che il povero arlecchino il vero amico mio debba morire per me queste parole pronunziate con voce alta e con accento eroico fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena gli stessi giandarmi sebbene fossero di legno piangevano come due agnellini da latte mangia fuoco sul principio rimase duro immobile come un pezzo di ghiaccio ma poi ad agio cominciò anche lui a commuoversi a starnutire e fatti quattro o cinque starnuti aprì affettuosamente le braccia e disse a pinocchio tu sei un gran bravo ragazzo vieni qui da me e dammi un bacio pinocchio corse subito e arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso dunque la grazia è fatta domandò il povero arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena la grazia è fatta rispose mangia fuoco che poi soggiunse sospirando e tentennando il capo pazienza questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo ma un'altra volta guai a chi toccherà alla notizia della grazia ottenuta i burattini corsero tutti sul palcoscenico e accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala cominciarono a saltare a ballare era l'alba e ballavano sempre